SIGLA Vai, destra a 6, 20, destra a 3 più si, 3 più si, per, destra a 6, 150, porta subito destra a 1 più gira, chiude secca in sinistra a 3 più lunga, fine chiude meno meno secca 3 più lunga, fine chiude meno secca, in destra a 3 più, sinistra a 6, in destra a 5 più si, subito sinistra a 6, in destra a 6 corta subito tornati a sinistro, sinistra a 4 più lunga si è più chiude corta, subito destra a 5, in... Premio Motorlandia Giuseppe Freguglia Sì, è andata bene anche quest'anno e siamo usciti a mantenere il titolo a Varese Visto anche la grossa concorrenza che c'era quest'anno Che si sono presentati gli elvetici tra di noi i Varesotti E' stato più difficile di quello che si pensava Però siamo usciti a portare a casa lo stesso la vittoria E mantenere lo scettro qua nel Varesotto Sparks of Light, The Ignite of Bones And when they strike, we light up the world Sparks of Light, Firestorm And when they strike, we feel the love Sparks of Light, The Ignite of Bones And when they strike, we light up the world We light up the world Abbiamo già iniziato il campionato Stiamo facendo l'IRC con la VRC Abbiamo fatto due settimane fa l'Elba Abbiamo fatto sesti di assoluti Abbiamo portato a casa un po' di punti Anche se abbiamo avuto un po' di problemi alla vettura Adesso la prossima gara è tra 20 giorni A Rally del Taro E poi proseguirà con il Cunese, Casentino, Como e Monza E questa settimana si sta parlando un po' Per riuscire a fare una gara del mondiale di Sardegna con l'Italia In****e Grazie per la visione!